buongiorno ragazzi benvenuti sul mio canale youtube oggi parliamo di jekiga come sappiamo si è sviluppato prima il manga e poi il jekiga non sappiamo bene quando è iniziato a prevalere sul mondo il fumetto naponico il nome manga probabilmente viene associato ma è già precedente a shinta karajima la nuova isola del tesoro di osamu tezuka che tezuka pubblica osaka perché tezuka è comunque di quella zona non è di tokyo come origine e un altro fenomeno si pone una decina di anni dopo sul sulla faccia del mercato editoriale dei manga del giappone il jekiga le immagini trammatiche intanto diciamo una cosa questo volume non è molto è interessante ma non per tutti per chi ama il battle shonen o il shonen pieni di azione questo non fa per voi l'autore matsumoto masaiko è uno dei fondatori del jekiga o meglio lui fonderà il comaga il comaga comago comaga mi sembra ok che è un movimento che nasce un anno prima nel 57 del jekiga in questo movimento lui usa questo nome non perché crea qualcosa di nuovo in toto ma per distinguersi del manga lui dice esiste un fumetto per bambini che è quello di tezuka che lo chiamiamo manga poi esiste qualcos'altro è del mio manga subito dopo il fondatore del jekiga un anno dopo cioè tatsumi yoshiro di cui ho letto anche una vita tra i margini che parla più o meno nello stesso periodo di questo volume sul jekiga sui fanatici del jekiga un anno dopo nel 58 fa un manifesto in cui dice che lui vuole creare un manga diverso un manga diverso che è indirizzato agli adulti che non mette immagini così per smicizzare il tutto per rendere più divertente della cosa ma racconta una storia seria una storia che può essere drammatica che spesso è drammatica e può essere di vari generi gli autori hanno iniziato insieme sono considerati loro insieme quindi come dicevo tatsumi matsumoto e takao saito tutti tre della zona di osaka i tre corvi dell'inomaru in questa casa loro l'editrice loro propongono su kage kage ombra pensata in linea ai grandi ninja di naruto propongono dei racconti in cui non c'è da divertirsi propongono i thriller qui matsumoto per ringraziare takao saito che gli ha trovato questo lavoro e con cui lavoro intanto la saito production mette l'accento proprio su saito e su un altro mangaka nelle note scoprirete chi è perché nel manga in questione non dirà il nome vero l'autore ometterà per amicizia di mettere il nome perché narra di questo autore questo autore non è uno stinco di santo si comporta male si comporta male nei confronti di saito si comporta male nei confronti degli altri rubando del denaro insomma beve va donne cose brutte e quindi l'autore per amicizia metterà uno pseudonimo per questo autore ma che verrà individuato lo stesso perché il gruppo è piccolo e quindi sono in quattro il gruppo e loro quattro e poi si allargerà da altri autori che lavoreranno su kage ombra ombre e machi maci come macico maci la strada queste riviste però mettono dei manga per adulti pensate a loser losers un altro manga recentemente pubblicato dalla x publishing sotto il marchio nippon shock nippon shock parla della nascita della prima rivista mensile settimanale di seinen questo è un pre kage e machi so e kage sono riviste che sono andate prima mensili per manga per adulti ma il loro manga per ora si dimita il thriller mentre in seguito ci sarà una grande varietà sa come ho detto all'inizio matsumoto non è associato subitissimo al jekiga ma si aggregerà tatsumi è considerato il padre del jekiga in giappone se volete conoscere un di questi chi ha fatto più fortuna è saito tutti però tutti o quasi tutti conoscono volgo 13 survival ci sono storie di per esempio ancora demon king storie che hanno avuto un successo enorme mentre gli altri sono stati abbastanza conosciuti e poi marginalizzati hanno un pubblico di nicchia saito ha avuto un pubblico invece importantissimo questi sono quelli che provengono dal kansai cioè della zona di osaka nella zona a est del giappone poi c'è la zona di toico qui si uniscono a questi autori altri autori come shizero mizuki autore di gheghe no chitaro chitaro dei cimiteri l'infimo chitaro come lo volete definire o il più grande di tutti quelli considerati finora cioè cioè quelli che credo facciano parte di questo movimento che per me sanpei shirato forse perché sono rimasto affascinato dai suoi ninja da kamui il suo ninja più famoso di kamui den e via dicendo the legend of kamui part seconda eccetera dicevo sanpei shirato che appunto è l'autore di storie in cui ninja del medievo si battono contro un disertore ma perché questo ha disertato perché ha capito che l'inutilità della guerra perché ha capito che i suoi superiori non pensano al bene del paese viaggendo e in questo ambiente vedremo anche il popolo che più di una volta si tenterà di sottrarre dalla dominazione di questi feudatari spietati che comunque li perseguitano li sovrastano se approfittano il fatto di avere armi e che questo popolo non abbia un capo vero e proprio che sia estemporale ogni sua rivolta oltre questi ricordiamo tetsuya kiba autore di ashita no 2 e koseki kojima autore di lone wolf e cab quindi ricordiamo nizekika viene associato spesso e volentieri con saito perché quegli autori che ho appena pronunciato di cui ho detto il nome che vengono associati in un secondo momento al zekika ma compaiono quasi subito alcuni solo hanno uno stile di disegno realistico hanno uno stile diverso molto diverso da tatsumi tatsumi disegna potrei dire male come potrei dire lo stesso guardate questi disegni guardate questi disegni posso dire lo stesso di matsumoto invece saito ha uno stile disegno che colpisce di più che si adatta più a storie realistiche che questo stile qua poi ricordiamo comunque che il zekika si dice sia esista tuttora io lo metterei in pieno nei seinen non posso considerare che ne so lupen terzo zekika è un zekika anche se è nato nel filone dei del zekika il zekika ha sdoganato anche i disegni di monkey punts certo di samoro alcuni dicono gli occhi chiami è anche lui zekika in un certo senso si ma ormai non io direi che non esiste più il genere se zekika ormai esiste il genere per adulti il zeyden e quindi che è nato da quel movimento comunque grazie di tutto se avete qualche domanda fatela mettete un click se vi è piaciuto questo video se non vi è piaciuto mettete comunque non un like ma un dislike per farmi capire che non vi è piaciuto e ditemi perché ci vediamo prossimamente grazie